Giovani allievi delle scuole medie e superiori, delle scuole di musica, dei conservatori, provenienti da tutta Italia e dall'estero, hanno raggiunto Trieste, per la sfida lanciata dalla Trieste Fruit Association, in occasione della cinquantesima edizione della Barcolata. 2000 flauti per 2000 vele, il concerto di flauti più grande al mondo su musica originale del maestro Walter Sivolotti. Un conubbio ideale tra il vento che gonfia le vele e l'aria che genera il suono. Un conubbio ideale tra il vento che gonfia le vele e l'aria che genera il suono. Un conubbio ideale tra il vento che gonfia le vele e l'aria che genera il suono. Un conubbio ideale tra il vento che gonfia le vele e l'aria che genera il suono. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.